Le origini di Messina, l'antica gloriosa Zancle, chiamata poi Messenion, risalgono al 730 a.C. Nell'era romana e bizantina vive un periodo di grande splendore. Risale la China sia sotto l'aspetto economico, sia commerciale e artistico, fino a diventare una tra le città più belle della Sicilia. Lo sviluppo continua inarrestabile, pur nell'alternanza di conquistatori e lotte per la libertà. La tenacia dei suoi figli trova ancora la strada per resistere e ogni volta rinascere più belle e più splendida. 28 dicembre 1908 Dopo la dolcezza e la gioia del Natale, la città, pensando all'anno nuovo, accarezza sogni e speranze. Continuano, fino a notte inoltrata, iniziative, preparativi, festini e incontri. Ora, tutto tace. L'intera città, ovattata di silenzio, riposa. Alle 5.20 le forze della natura improvvisamente si scatenano. Rumori cupi, mai sentiti, crolli assordanti, coprono urla disperate di uomini e animali. Un terribile terremoto, seguito da un altrettanto terribile maremoto, hanno cancellato la vita. Là dove erano Reggio e Messina, ci sono cumuli di macerie fumiganti. Più di centomila uomini sono mordi, sepolti dal crollo delle case o inghiottiti dal mare. Inizia la corsa contro il tempo. Sono in zone, a corono per primi, marinai russi e inglesi. All'alba del giorno 30, la Croce Rossa, arrivata con la nave Napoli, è a lavoro nella città di Reggio. Stati Uniti, Norvegia, Svizzera e molte altre nazioni, prestano generosamente la loro collaborazione e il loro aiuto. In breve, è tutto una lodevole gara di solidarietà. Don Orione è un personaggio chiave nell'opera di soccorso e di ricostruzione. Nato a Ponte Curone, in provincia di Alessandria, alunno di Don Bosco a Valdocco, non ancora sacerdote, fonda una congregazione religiosa impegnata soprattutto nel campo della carità. Nel fiore della sua giovinezza, 36 anni, decide di andare volontario nelle zone terremotate. Avuta l'approvazione del suo vescovo, messo insieme qualche lira, la mattina del 4 gennaio inizia il faticoso e complesso viaggio verso la Calabria. Don Orione, senza risparmiarsi, scava per recuperare tra le macerie, corpi e feriti. Passa tra i terremotati distribuendo quanto la provvidenza gli permette di raccogliere. Rianima, conforta, dona speranza. Il comando militare gli firma un lascia passare per accedere liberamente alle zone disastrate. Il 10 gennaio espone a Monsignor Morabito, vescovo di Mileto, come intende lavorare per gli orfani. Prendersi cura del loro vero bene e della loro persona. Offrir loro occasioni concrete per la formazione culturale, umana e cristiana. Aprire strutture in loco per evitare di allontanarli dal proprio territorio. Renderli protagonisti della propria storia, inserendoli progressivamente nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Lo sconosciuto giovane sacerdote, venuto dal Piemonte senza pretese, fin dall'inizio si rivela non semplice gregario, non battitore libero, ma formidabile coordinatore e trascinatore. L'osservatore romano, già il 13 gennaio, mette in risalto la sua azione intelligente a favore degli orfani, in collaborazione con parecchi vescovi della Calabria. La carità non conosce barriere. In questo campo, Don Orione sente di poter e voler lavorare liberamente insieme ad ogni uomo di buona volontà. Il bene non ha colore politico. A Proda Messina senza veri punti di riferimento. In attesa di incontrare il vescovo, passa la prima notte in piazza Cairoli, ospite nella baracca di Don Arcangelo Briglia. Il 25 gennaio è presso l'amico Don Albera, sempre in piazza Cairoli, baracca numero 7, chiesa di giorno e dormitorio di notte. Dimentico di sé, si mette totalmente a servizio dei terremotati e di quanti si rivolgono a lui. E' tanta la sua carità che la gente chiama preti tortonesi, tutti i sacerdoti venuti da lontano. In data 11 febbraio, il giornale L'Avvenire d'Italia parla di Don Orione che continua a soccorrere i terremotati e raccogliere gli orfani perché non siano allontanati dalla loro madre terra, che organizza preghiere e celebrazioni e suffragio dei defunti con la partecipazione massiccia dei sopravvissuti. Il lavoro degli orfani assume proporzioni gigantesche. Sono stati raccolti già 4.025 orfani e 3.078 orfani di padre o di madre. Più della metà, non avendo beni, sono assistiti in forma gratuita. Le adempienze inoltre sono tante. Compilare la cartella personale con i dati familiari, conoscere la situazione reale, scegliere la forma più adatta e consona alla crescita del ragazzo, difenderne i diritti, proteggere eventuali loro beni e proprietà da gente disonesta e pronta ad approfittare delle disgrazie altrui. Curare la loro formazione culturale, religiosa, il benessere fisico e pensare ad un loro futuro dignitoso. Contemporaneamente continua a collaborare per il recupero dei corpi e dei beni dalle macerie, a provvedere le scorte per il mantenimento di tante persone, a interessarsi dei ragazzi che sono finiti in carcere, dei malati, dei feriti e di cento altre cose ancora. Autorità e personaggi di ogni credo riconoscono in Don Orione l'uomo sincero, senza ipocrisia e servilismo, ma deferente e rispettoso, capace di unire e coinvolgere anche le parti più opposte. È il sacerdote che nel piccolo instaura la riconciliazione tra credenti e laici, che mostra concretamente quanto spazio d'azione è aperto anche ai figli fedeli alla Chiesa. Grazie a tutti.